Torna il 30 maggio a Torino dopo i grandi successi del 2013 e del 2015 la partita del cuore. Grande evento di sport, spettacolo e solidarietà con la nazionale italiana Cantanti che sfiderà sul campo dello Juventus Stadium i campioni per la ricerca. Obiettivo dell'evento la raccolta fondi per sostenere la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro e la Fondazione Teleton. Molti i testimoni al decezione come Gigi D'Alessio e Francesco Guasti. Ciao sono Gigi D'Alessio, vi aspetto il 30 maggio allo Juventus Stadium di Torino per la partita del cuore. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo e alla Fondazione Teleton. Sarà una bellissima serata. Un bacio grande e come sempre buona vita a tutti. Vi aspetto, non mancate. Ciao. Ciao a tutti, sono Francesco Guasti e vi aspetto tutti il 30 maggio allo Juventus Stadium per la partita del cuore. Quest'anno il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo e alla Fondazione Teleton. Mi raccomando, vi aspettiamo, vi aspettiamo perché c'è il calcio, lo sport, il divertimento e il far del bene. Perché fare del bene è rock. In occasione della manifestazione allo Juventus Stadium si esibiranno i giovani piemontesi vincitori del concorso Un cuore rap bandito dal Consiglio regionale, che dovranno scrivere una canzone rap con alcune parole chiave tra cui solidarietà, ricerca, sport, salute, stili di vita e benessere. Il concorso scade il prossimo 26 aprile.